In Italia sono quasi 6 milioni le persone indigenti alimentari che non riescono a mangiare a fine giornata. Cosa possiamo fare noi per dare un contributo personale? Sentiamo il suggerimento di oggi di Lisa Casali, scienziata ambientale ed esperta di cucina ecosostenibile. Lo spreco di cibo non avviene solo nelle nostre case, ma una buona percentuale arriva anche dalla grande distribuzione, dalla ristorazione, dalle mense e dall'industria alimentare. In alcuni casi sono eccedenze, sono alimenti cotti e poi non portati in tavola, sono ingredienti che non vengono cucinati e quindi che avanzano. Laddove è possibile recuperare, e questo cibo è ancora commestibile, poterlo ridistribuire e darlo a chi ne ha più bisogno è assolutamente un'iniziativa da incoraggiare e da aiutare. Banco Alimentare nasce come fondazione nell'89 proprio con questo scopo, uno scopo di solidarietà e di beneficenza. Andare a prendere un prodotto che è un rifiuto e farlo diventare invece una fonte di sopravvivenza per chi ha più bisogno. Purtroppo il cibo a disposizione è sempre meno, mentre la richiesta è sempre di più. Per questo motivo è importante che chiunque può gli ha un proprio contributo, si può fare come donatori, se ad esempio lavorate in un'azienda del sottore alimentare o della ristorazione, oppure potete farlo come singoli individui diventando volontari per giorno. E poi non dimenticate anche le collette straordinarie, proprio per questo motivo sono sempre di più le persone che chiedono e sempre meno il cibo che viene donato. La colletta straordinaria serve proprio a questo scopo, colmare un po' questa differenza tra domanda e offerta e potete farlo singolarmente ognuno di voi andando a fare la spesa e destinando alcuni prodotti alla colletta straordinaria di banco alimentare. La prossima è davvero vicina ed è sabato 29 novembre. Andate a fare la spesa!